Per il vasto Girardi torna lo spauracchio della zona retrocessione dopo le tre sberle prese da Roma a City e a domicilio. Pazzarelli di Macerata e il fischietto dell'incontro. Il tramonto della prima frazione, ripartenza veloce di Direnze, gonfia la rete e porta in vantaggio l'undici di mister Maurizzi. Su calcio di punizione al minuto 45 Ruggeri tenta di raddrizzare punteggio ma l'estremo ospite dichiara non si fa sorprendere. Sulla palla si catapulta Cecuzzi ma incredibilmente cestina una rete a porta sguarnita. I molisani forzano i tempi a ritorno dagli spogliatoi. Al nono si invola Panaro verso l'area avversaria. La violenta conclusione scheggia la traversa. Nulla di fatto. Il vasto Girardi resta sotto di una rete. Il finale però degli ospiti. Realizzazione dagli undici metri sul piede caldo di Direnze a quattro giri dal termine della gara per un calcio di rigore decretato dall'arbitro Marchigiano. Ma non è tutto nell'extra time. Anto Giovanni non è fortunato e coglie il secondo legno del pomeriggio. Con i giallocelesti sbilanciati il Roma City chiude con il lucchetto il match grazie alla firma di Tiam. Al triplice fischio scintille tra le due panchine. ne fanno le spese i rispettivi tecnici Marmorini e Maurizzi nel dirigente locale Antenucci per proteste.